Come abbiamo lavorato? È una possibilità però voglio concludere l'allenamento di oggi sapendo se Barisone e Solini saranno completamente recuperati, hanno fatto ieri il primo allenamento con il gruppo, la risposta è stata positiva, aspettiamo la seduta di oggi. Averli a disposizione entrambi o meno mi potrebbe far pendere la decisione da una parte o dall'altra se continuare con la difesa a tre o se invece tornare a lavorare con la difesa a quattro. In genere con Monaco hanno sempre utilizzato questo solo a tratte, sono passati al 4-3-3 magari a partita in corso però è una squadra che ha grandissima qualità sugli esterni dove ha anche alternative importanti, vedi Piscitella, Molfetta, Ceccarelli o lo stesso Malotti, sono giocatori di qualità di gamba, molto abili nell'uno contro uno e hanno un attaccante, Moncini, che ha già fatto dieci gol in una squadra che è stata sempre invischiata nelle ultime posizioni. Metteteci pure Tavano che nel giorno di ritorno ha ritrovato con continuità la via della rete, ti dice tutto il fatto che nelle ultime due gare ad Alessandra hanno recuperato due gol e nell'ultima gara con la Cremonese sullo 0-0 hanno preso un palo e poi sono rimasti in partita facendo soffrire tantissimo i grigiorossi che in quel momento dovevano andare a prendersi la prima posizione fino al 94esimo, quindi un avversario scorbutico, tosto però noi sappiamo che facendo sette punti avremo la matematica certezza del terzo posto e questi sette punti passano anche attraverso questa prima gara delle ultime tre e sarà secondo me molto 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 importante riuscire a fare la nostra.